E' stata ripristinata a Fraschiati con Alessazio, la bellissima tradizione della affissione selvaggia. Ma vuoi vedere che fosse proprio questo il nuovo inizio? In passato, al tempo dei Chiattopardi, ero riuscito, bene o male, a forza di bastonate fra i denti, ero riuscito a debellare questo fenomeno. Ecco qua, è arrivato Alessazio con il suo nuovo inizio per culazio e ci risiamo, ma io non demordo, Alessazio, il nuovo inizio!